Ciao a tutti, sono Massimo Carraro, creatore e coreografo e allenatore del gruppo di patinaggio spettacolo Renovazio. Con questo progetto web Renovazio vuole uscire dai confini che fino ad esso l'ha tenuto ristretto a una piccola cerchia di persone, vuole far uscire i suoi lavori, la sua passione e tutto quello che ogni giorno mette di personale in questo meraviglioso sport, anzi in questa meravigliosa disciplina artistica. Vogliamo farci conoscere globalmente perché con il nostro studio dei sentimenti umani attraverso il patinaggio siamo riusciti a conoscere di più noi stessi e siamo convinti che appassionandovi al nostro lavoro anche voi potreste conoscere meglio le vostre passioni, i vostri sentimenti e noi speriamo trovare il vostro linguaggio per comunicarle e condividerle con il mondo. Grazie e buona visione. Grazie.